Esordisce giovanissimo, 1961, nel mondo del cinema in un film di Alfredo Giannetti, giorno per giorno disperatamente, e nel film Un giorno da Leoni, di Nanny Loy, giunge però alla celebrità, appena 22enne, nel 1968, interpretando lo ruolo di Dick Shelton nello sceneggiato La freccia nera. Riadattamento di Anton Giulio Maiano del romanzo di Robert Louis Stevenson, a fianco di Loretta Goggi e Arnoldo Foa, nello stesso anno 1968 esordisce in teatro nel Giulio Cesare di Shakespeare. Nel 1970 registra il 45 giri, sei bella, nella sua unica esperienza dedicata al mondo della canzone italiana. Nel 1971, Dario Argento lo chiama a recitare nel film Il gatto a nove code, con Radar Asimov, Tino Carraro, James Franciscus, Catherine Spack, intensa anche l'attività di doppiatore. Si è anche cimentato con successo in una regia lirica della norma di Vincenzo Bellini. Il 26 giugno 2013, durante una vacanza in Sardegna, viene colto da un ischemia e ricoverato all'ospedale di Lanusei. Trasferito a Roma, qui muore il 26 settembre successivo. All'età di 66 anni, secondo le sue volontà è stato sepolto in Toscana nel cimitero di Rosignano Marittimo. Suo figlio, primo, è a sua volta un attore. Grazie.